Il concorso Ancon Per accendere la città ha assunto ancora di più i toni della solidarietà. Più che un concorso si tratta di una gara, una gara di solidarietà, dove praticamente i ragazzi, sempre delle scuole medie che parteciperanno, dovranno presentare dei disegni e in questi disegni rappresentare ciò che più li rende felici. Il Rotary Club ai vincitori del concorso darà l'opportunità di donare 13 iPad all'ospedale Salesi e in particolar modo al reparto di oncoematologia. Quindi quest'anno, a differenza degli altri anni dove i ragazzi hanno partecipato ed hanno ricevuto, quest'anno parteciperanno per donare. Qui entra appunto in gioco il nostro spettacolo Medici in France che si terrà il 21 ottobre presso il Teatro delle Muse, dove i biglietti venduti contribuiranno all'acquisto degli iPad che poi verranno donati al reparto di oncoematologia. Questa manifestazione è innanzitutto stata creata da tanti professionisti della sanità perché sul palco si sono avvicendati negli anni tanti amici medici della sanità e amici dei medici. E a loro ovviamente io da subito devo dare il mio ringraziamento perché hanno fatto tante cose. Noi in due anni di effettivo lavoro siamo riusciti a raccogliere ben 46 mila euro. Abbiamo devoluti al comune di Caldarola, abbiamo contribuito all'acquisto di una scuola bus e poi abbiamo aiutato lo Iome di Iesi, abbiamo aiutato l'Andos di Senigallia, Papa Giovanni XXIII. A questi spettacoli hanno partecipato tantissime persone che hanno condiviso con noi questi progetti, progetti che credo ci hanno restituito tanto affetto. Che cosa succederà sul palco quest'anno? Sul palco abbiamo degli ottimi professionisti che ci aiutano ovviamente, abbiamo Marco Santini, Chiara Burattini, Giulia Poeta, la Luna Dance, il coro Orlandini, il coro Ferretti, spero di non aver dimenticato qualcuno. Artisti che stanno sul nostro palco, che staranno sul palco, poi quando saranno in platea si pagheranno anche il biglietto, quindi c'è una donazione completa. Energia, salute, lavoro, big data sono i temi che ricorrono tra le corsie che a Fiera Milano City ospitano le 20 realtà marchigiane presenti a Smau, protagonista è l'innovazione al servizio della risoluzione di problemi pratici di imprese e cittadini, che siano la creazione delle etichette e la loro traduzione. In pratica abbiamo sviluppato un applicativo che permette alle aziende di dimezzare i costi operativi del processo, eliminare gli errori legati alla digitazione manuale delle informazioni e migliorare il servizio al cliente e la qualità dell'informazione che arriva poi al consumatore finale. Dispositivi che misurano la salubrità delle postazioni lavorative degli smart worker? Andiamo a misurare la salubrità dell'ambiente di lavoro per i nuovi impiegati che è la casa. In pratica bagnandomi il dito io ti dimostro che guardando lo schermo l'umidità della tua casa non è più conforme e adatta allo svolgimento delle attività lavorative. Lo vedrai diventare rosso, il lavoratore verrà informato e in maniera anonima anche il suo datore di lavoro potrà ricevere come comunicazione che gran parte dei suoi lavoratori rischiano di sviluppare una malattia professionale. Sistemi di erogazione del carburante che consentono di evitare sprechi, frodi e uso di posse contanti Simulando che questo qui sia il serbatoio di un veicolo industriale, prendendo semplicemente la pistola e inserendola nel dispositivo la pompa inizia a erogare automaticamente. Semplicemente andando a sfilare la pistola dal serbatoio la pompa si ferma automaticamente e il pagamento è stato tutto quanto virtualizzato. E ancora droni che vigilano sull'efficienza ad esempio di impianti fotovoltaici. Se noi facciamo un'indagine su un impianto fotovoltaico per vedere appunto che problemi ci sono la semplice termocamera che vedete qui darebbe semplicemente delle immagini termiche e basta. Noi che cosa facciamo? Diamo al cliente quello di cui ha bisogno, cioè sapere quanto sta perdendo a livello economico. Quindi non è solo drone, ma è missione, drone, elaborazione dato, fornitura dell'informazione finale. Il nostro cliente neanche si accorge di come l'abbiamo fatto, sa solo che lui sa quanto sta perdendo economicamente. Il presidente di Camera Marche Gino Sabatini e il segretario dell'ente camerale Fabrizio Schiavoni hanno fatto visita agli imprenditori e preso parte al live show in programma sul tema Smart Manufacturing, processi digitali efficienti e sostenibili, con la partecipazione di alcune imprese vincitrici del premio Innovazione SMAO, tra le quali le marchigiane Clementoni e Plado Stelma. L'appuntamento di SMAO è stata anche l'occasione per lanciare l'Internet Governance Forum, istituito dall'ONU quale punto di riferimento per la discussione mondiale sul ruolo della governance di Internet. L'edizione 2022 sarà ospitata il 18-19 novembre nelle Marche da Camera Marche e UniWPM.